La palla giocattoli E' candidato in un partito E se non sbaglio Sarà nella circoscrizione Del Piemonte Ha mollato il Casale però Anche il Calanjanus Che ricordo ha lasciato Goveani? Ha vinto la Coppa Italia Quello di essere un presidente Che pure di vita brevissima Ha vinto l'ultimo trofeo Della storia del Toro Anche se in realtà con la squadra l'aveva ereditata Da un presidente che pure lui si era messo in politica E gli era anche andata bene E poi in seguito gli è andato malissimo Però Goveani io sono convinto Di Pinerolo ritengo tuttora Che ha fatto moltissimo per il Toro Poi tutte queste leggende metropolitane su di lui Alla fine della fiera non ha una condanna Perché non ha una condanna Ma questo non è mica il Tribunale Questo è il bar di Quarta Rete Scrive Michi Anche quelli del Toro Dicono che a Torino sono tutti tifosi Granata Ma non è vero